In questo tutorial vediamo delle somme di radicali numerici. Partiamo da questo primo esempio. Abbiamo radice di 2 più 3 radice di 2 meno 5 radice di 2. È possibile effettuare la somma di questi tre radicali in quanto sono simili tra di loro. Questo perché le tre radici hanno lo stesso indice che risulta essere pari a 2 e lo stesso radicando che in questo caso risulta essere pari a 2. Per poter sommare questi tre radicali dovremo andare a sommare i coefficienti delle tre radici. Il coefficiente sottinteso di radice di 2 risulta essere 1 e allora dovrò sommare 1 con 3 con meno 5 e allora apro una tonda, scrivo 1 più 3 meno 5, in questo modo ho ricopiato i tre coefficienti e poi scrivo radice di 2. 1 più 3 è pari a 4, 4 meno 5 è pari a meno 1 e allora come risultato ottengo meno radice di 2. Passiamo a questo altro esempio, eseguiamo questa somma. Osservo che i tre radicali risultano essere simili tra di loro in quanto hanno lo stesso indice che risulta essere pari a 3 e lo stesso argomento che risulta essere pari a 4. Per poter effettuare questa somma andrò a sommare i coefficienti dei tre radicali. Il primo coefficiente risulta essere 2, il secondo coefficiente è sottinteso e risulta essere pari a meno 1. Il terzo coefficiente è pari a 6 e allora apro una tonda e scrivo 2 meno 1 più 6, chiudo la tonda e poi scrivo radice terza di 4. Sommo ora questi tre numeri. 2 meno 1 ottengo 1 più 6 ed ottengo come somma 7 radice terza di 4. passiamo a questo terzo esempio. Possiamo sommare i tre radicali in quanto sono simili tra di loro. I tre radicali hanno indice pari a 2, inoltre hanno lo stesso argomento che è pari a 5. Per poter effettuare questa somma dovremo sommare i coefficienti dei tre radicali. Osservo che il coefficiente sottinteso del primo radicale risulta essere pari a 1. E allora apro una tonda e scrivo 1 meno tre quarti meno 2 e poi ricopio il radicale che è pari a radice di 5. Sommo ora questi tre numeri, effetto il minimo comune multiplo che è pari a 4, moltiplico 4 per 1 ed ottengo 4, ricopio poi meno 3 e moltiplico 4 per meno 2 ed ottengo meno 8, poi per radice di 5. 4 meno 3 ottengo 1, meno 8 ed ottengo meno 7 quarti radice di 5. Passiamo a questo quarto esempio. Come prima cosa osservo che non possiamo effettuare direttamente la somma perché i tre radicali non sono simili tra di loro. Hanno lo stesso indice che 3, solo che l'argomento in due casi è pari a meno 2 e in questo caso è pari a 2. Per poter rendere simili i radicali nel primo e nell'ultimo caso dobbiamo portare il meno fuori dalla radice e allora riscrivo meno radice cubica di 2, poi più 6 radice cubica di 2, poi meno 3 radice cubica di 2. Ora i tre radicali sono simili e allora per sommarli dovrò sommare i loro coefficienti. Osservo che il coefficiente sottinteso del primo radicale risulta essere pari a meno 1 e allora apro una tonda e scrivo i tre coefficienti. Meno 1 più 6 meno 3, chiudo la tonda e poi scrivo radice cubica di 2. Meno 1 più 6 è pari a 5, meno 3 ed ottengo 2 radice cubica di 2. Passiamo a quest'ultimo esempio. Osservo che il primo radicale risulta essere simile alla terzo radicale e allora 6 radice di 2 meno 3 radice di 2 risulta essere pari a 3 radice di 2. Poi ricopio questo termine, ossia meno 2 radice di 3. I due radicali non sono simili tra di loro e allora l'esercizio termina in questo modo e con questo termino il tutorial su esempi di somme di radicali.